Io sono Maurizio Polverini, sono un parrucchiere e sono uno scientologo. Il mio lavoro consiste in addestrare persone per portarle a conoscere questa nuova tecnica che è il taglio scultura. Ciao! Ecco ora oggi io vi spiegherò un attimino quello che è il taglio scultura. È una creazione che ho fatto da qualche anno e che sto portando avanti. Ecco che questo metodo permette di tagliare i capelli con una tecnica molto particolare che ho definito scultura. Perché proprio come uno scultore che lavora la sua materia. Ecco vedete qui non c'è staglio, non c'è niente ma semplicemente i capelli appaiono già in forma. Prima di Scientology io pensavo cosa fare per me. Perché pensavo che io ero la persona più importante. Per me Scientology è capire di più qualcosa riguardo agli altri per poter essere di aiuto verso gli altri. Io sono Maurizio Polverini, vivo a Firenze e io sono uno Scientologo.